Allora, la prossima domanda è, mi viene chiesto, quando hai un cliente nuovo come fai a capire cosa tracciare? Quindi è anche qua una domanda più strategica che operativa, quindi la domanda è, quando arriva un cliente che mi chiede aiutami o sistemami la web analytics, perché tipicamente la domanda o la richiesta che mi viene fatta è, sistemami la web analytics o aiutami a tracciare, e come faccio a identificare cosa tracciare e cosa no? Beh, innanzitutto diciamo che un po' l'esperienza aiuta, nel senso che ovviamente facendo sempre tracciamenti o comunque gestione della web analytics, più o meno ormai capisco quali sono le macro aree da identificare, però quello che tipicamente faccio è appunto capire insieme con il cliente quali sono le sue aspettative, aspettative non inteso aspettative di visite nel sito piuttosto che azioni da parte degli utenti, ma quali sono proprio i suoi obiettivi strategici, quindi il fatto che tu abbia un blog piuttosto che tu abbia un sito aziendale che fa vendita B2B, quindi non un e-commerce per capirci, che senso ha andare a tracciare diciamo così approfonditamente la web analytics? Beh, anche lì bisogna capire anche cosa c'è a monte, quindi il marketing vero e proprio, quindi in realtà io parto sempre un po' più dall'alto, quindi non vado a capofitto a vedere se è configurato bene analytics piuttosto che tutte le varie spunte all'interno della proprietà o della vista sono configurate bene, eccetera. La prima cosa che voglio fare con il cliente è appunto buttare giù una specie di analisi con lui per identificare appunto quali sono i suoi aspettativi, i suoi obiettivi, in modo tale da poi adattare il tracciamento in base proprio a questa logica. Quindi diciamo questa è un po' la strategia. Poi in realtà io ho una serie anche di template, quindi ho proprio una, dei file Excel per capirci, dove ho tutta una specie di checklist basata ovviamente sulle esperienze e dove semplicemente do dei punteggi, quindi ho una specie di checklist con uno score, con dei punteggi dove mi fa capire a che punto siamo anche lì con l'impostazione della web analytics e quindi quanto c'è ancora da fare. E questo template a breve lo metterò anche a disposizione all'interno del club, quindi ragazzi seguitemi all'interno del club, perché nella sezione adesso devo valutare se web analytics o comunque script eccetera, metterò questo template a disposizione dove farò anche una piccola descrizione di cos'è e come funziona. Però in definitiva il concetto è, ne parlo col cliente, in base agli obiettivi del cliente capisco cosa andare a tracciare. E' ovvio che se il cliente mio è un e-commerce probabilmente quello che si aspetterà è un tracciamento più profondo relativo proprio a come gli utenti si muovono nell'e-commerce, oppure se ci sono affiliazioni, quindi utenti che arrivano da altri siti perché c'è una campagna in corso, perché ci sono link di referral e così via, anche lì bisogna canalizzare bene le sorgenti di traffico, ergo faccio in modo che su Analytics venga fuori in modo molto chiaro che quel traffico è grazie al referral A piuttosto che al referral B o diciamo i referral in generale. Quindi ci sono tante casistiche, però diciamo che tipicamente l'approccio è esattamente questo.